Il posto è molto bello. L'altra cosa che forse tutti sanno, ma magari se qualcuno non lo sapesse glielo devo dire, qui dentro è posato il più bel pianoforte del mondo oggi, il Fazioli. Questo qua che sta dietro a noi è quello che è la Ferrari dei pianoforti. Ma qui siamo nella casa dei violini. Esatto, ma è carino che nella casa dei violini ci sia stata l'intelligenza di mettere il più bel pianoforte prodotto al mondo oggi e la cosa altrettanto attraente, questo più bel pianoforte non è più né una marca tedesca né americana, ma è una marca italiana, è una cosa fatta in Italia. Rientra in un dialogo eccellente con lo spazio e forse anche con l'acustica. E la cosa però curiosa è che a pochi chilometri da qua c'è una città che ha un duomo in mezzo, ha fatto l'expo. È la periferia di Cremona? Sì, non lo sanno. È la periferia, sì. Allora, la domanda intrigante è questa. Come mai in Lombardia non sanno niente della Lombardia? E non è una domanda banale, perché è anche il momento di porsela questa domanda. Come mai, se andiamo in Baviera, i bavaresi sanno tutto dei bavaresi. E andiamo in Lombardia e i lombardi non sanno che poco della Lombardia. Io ci ho provato per il Corriere della Sera a fare quegli articolini e sui te anche un libricino che poi ha venduto parecchie coppie e che fa sempre piacere. Ecco, l'ultimo libro peraltro di Filippo D'Averio che accoglie queste introduzioni appunto sul Corriere della Sera ed è un viaggio nell'arte. E' un viaggio nell'arte. Il gioco dell'arte. Il gioco dell'arte è un libro fatto per dei supplementi del Corriere che ho curato quest'anno. E l'altro invece è un libricino piccolino che raccoglie dei spunti sulla Lombardia. Io sono un po' filo Lombardo. Non sono del successo. Sono di origine lontana. D'Averio è un paese in provincia di Varese. Sono di chi? Sono di lombardo. Ho dei parenti lombardi. Cioè, ho fatto una parte della storia della Lombardia. Però mi dispiace che la Lombardia non sia cosciente della sua, in realtà, della sua radice storica e della complessità della sua radice storica. Pensate che se non fosse stato per un retore fiorentino avremmo già unito l'Italia. Noi nel 1405, intorno al 1405, quando Gian Galeazzo lancia il suo progetto unitario. Poi c'è Coluccio Salutati che riesce con un libricino, La potenza dell'intelletto, con il libro sulla tirannide e con una serie di suoi interventi pubblici lo blocca. Altrimenti ce l'avranno fatta. 400 anni prima. Sì, era una roba, non era una cattiva idea. E lo avremmo fatto basando questa sorta di progetto politico su una serie di dati legati alle ricchezze locali. E alla complessità delle ricchezze locali. Ecco, perché quello che i lombardi non sanno, e forse neanche i cremonesi, che qui di ricchezze artistiche ce ne sono e non poche. E tante. Abbiamo fatto adesso un giro dei musei cittadini, no? L'importanza di quella raccolta è straordinaria. Adesso tutti sanno dell'Arciboldo perché se ne è discusso il quanto doveva o non doveva andare a Milano. Questione alla quale io non entro. Le polemiche locali sulla secchia rapita, cioè una cosa che è meno importante. Però un museo che ha dei materiali storici di grandissima qualità, ha una sua stesura anche estetica molto importante. Ho visto un pezzo di una mostra straordinaria questa sera sulla... Viaggio di Ferdinando. Sì, Ferdinando che arriva in Italia. Ma a Milano non ho mica capito che c'era la mostra. Ma non è che non fosse stata comunicata. È che l'identità lombarda ancora oggi soffre delle tensioni della sua storia. Cioè quello che fu in un qualche modo il meccanismo di scomposizione e di ricomposizione, soprattutto su due città che erano parallele alla crescita del potere visconteo, che sono Banto e Mecremona. Igonzaga. Igonzaga. E qua questo pasticcio un po' più complicato che non ha tirato mai fuori una personalità stabile in grado di andare a bussare alla porta dell'impero per avere un titolo riconosciuto di marchese, che sarebbe stato utile, non essendoci stato questo percorso, questa scelta politica, ma una rissosità interna alla città formidabile per 150 anni. Poi alla fine gli hanno fatto la cena, li hanno ammazzati tutti e sono diventati del visconte. c'è già finita in un bagno di sangue la faccenda. La perdita dell'indipendenza qui è stata una cosa di quelle, proprio da film splatter. Sì, però comunque Cremona, nonostante che non abbia, come altre città, un proprio casato, una propria nobiltà, ha un duomo che è fantastico, ha delle ricchezze artistiche che dicevamo nei musei, anche di cremonesi, anche di vittori cremonesi. Ha un patrimonio storico, immediatamente percepibile, che è legato all'importanza dei suoi edifici pubblici e anche, in un qualche modo, alla fierezza della dimensione urbana, che non è di consuetudine, cioè che corrisponde a quella che era l'ambizione quasi di uno Stato indipendente, che poi non è mai diventato uno Stato indipendente, proprio per la risosità interna e in realtà per i poteri molto forti che ha espresso poi il mondo visconteo. Ma la domanda da Porsi è da dove viene questo potere particolare di alcune aree dell'Italia e del Nord nella seconda metà, la seconda metà del Trecento attraverso il Quattrocento. In fondo tutti abbiamo imparato a scuola che c'è l'Italia comunale. L'Italia comunale è l'Italia che inventa il capitalismo. Noi siamo sponsorizzati da una banca popolare, quindi non dimentichiamo. Popolare. Popolare. Quindi non dimentichiamocelo questo percorso. L'Italia cresce in verità inizialmente sulla civiltà comunale e all'interno della civiltà comunale su ciò che corrisponde alla genesi della civiltà comunale, cioè la convivenza fra i cittadini e la produzione e conseguentemente tutto il sistema di gestione della produzione fra il quale e quello del soldo. Cioè il denaro è fondamentale per l'identità italiana. Abbiamo fatto due giorni fa una conferenza a Firenze su questo argomento, un paio di giorni fa, in cui proprio sollevavo questo fatto che addirittura la lingua italiana non nasce tanto da come sembrerebbe. Diro a Firenze ci vuol coraggio. Ho detto che l'italiano non nasce da Dante, l'italiano nasce dalla lettera di credito che ha un secolo di più di Dante e che doveva consentire a uno che ha un fogliettino di carta di farsi dare a Bruges una quantità di denaro per comprare 40 carichi di lana. Cioè quindi altro che lì non era un fatto di poesia, era un fatto concreto. Questo fatto concreto, cioè il riconoscere una lettera di credito senza poter usare il computer o il fax o il telefono, cioè nel 1300, voleva dire riconoscere la calligrafia e riconoscere la lingua di quella lettera di credito che era l'unica certificazione possibile. E avere una reputazione tale per essere esigibile. E quindi era una roba di riconoscimento. L'Italia nasce in quel modo lì e poi si forma all'interno della città. L'interno della città è un interno di tipo commerciale e produttivo. Però succede un fatto formidabile, drammatico, terribile a metà del 300 che è la grande peste. Con la grande peste le grandi città commerciali implodono, chi più chi meno. I fiorentini che sono di cattivo carattere muoiono meno degli altri. Questo perché Dio li ha fatti così, sono inossidabili in qualche modo, anche quando finiscono al governo. Un salto logico un po' troppo ampio. Torniamo al 400. Io amo fare questi salti logici, perché noi non ci rendiamo conto mai di quanto è importante la storia. Vedi questo piccolo gruppo di persone che abbiamo davanti a noi? Se noi passassimo dall'uno all'altro, la signorina in prima fila, fino alla signora in fondo all'ultima fila, facciamo il giro, e ognuno rappresentasse una generazione, arriviamo a Giulio Cesare. Cioè stanno in un autobus. Fra noi è Giulio Cesare, da padre in figlio c'è solo un autobus di persone a spasso. Questo perché lo dico? Perché noi troppo spesso dimentichiamo quanto il passato vive in noi, cioè quanto i comportamenti che abbiamo, e che sono comportamenti poi mediati, da quella cosa che si chiama la semiotica. Cioè che vuol dire il linguaggio che usiamo, i gesti che usiamo, i rapporti che abbiamo, il modo in cui mangiamo, il modo in cui ci rapportiamo l'uno all'altro, il tipo di città nel quale viviamo. Tutti questi percorsi di passaggio, del sentire più che del sapere, fanno sì che noi siamo sostanzialmente in costante contatto con il nostro passato. Non consapevolmente, però siamo in contatto. Però consapevolmente attraverso quello che quel passato ci è rimasto, e quello che ci è rimasto sono soprattutto le cose belle. L'arte, i musei racchiudono cose del passato che parlano all'uomo d'oggi. Noi facciamo questa cosa terribile che buttiamo via il brutto. Che non l'abbiamo conservato anche il brutto, perché i testimoni anche quello in un qualche modo... Ci sono delle opere un po' brutte. Ci sono delle opere che noi non consideriamo più belle perché abbiamo mutato il tipo di sensibilità, ma in realtà noi consideriamo con degno di conservazione le cose alle quali attribuiamo un valore. E quindi molte altre le perdiamo. Ma non solo, perdiamo anche molte altre cose che l'uso ci ha fatto perdere. Un esempio che do sempre per capire che cos'è la storia. Il XIII secolo è il momento apicale della ricchezza italiana. Da quel momento lì comincia un po' a calare, cambiano gli equilibri politici, cominciano a nascere accanto alle città, alle signorie e bla bla e così via. In quel secolo lì c'erano in Italia circa 12-13 milioni di abitanti già. E ognuno di questi aveva un coltello. Ci sono state quattro generazioni, quindi ci saranno stati in quel secolo un'ottantina di milioni di coltelli in Italia. Ne sono rimasti in tutto 200. Cioè il passato si scioglie nelle nostre mani in un modo incredibile. Perché allora non si era ancora consumisti, si era utilitaristi. Cioè il coltello si affilava finché diventava piccolino, quando era piccolino serviva solo a sgozzare un parente e quando alla fine diventava ancora più piccolo, diventava un chiodolo, si metteva per chiudere una sedia ed era scomparso. Per cui i documenti che ci rimangono sono pochissimi. Pensate cosa c'è rimasto del Medioevo. È vero che si costruiva non come l'epoca romana, è vero che si è fatto meno opere che l'epoca romana, ma dell'epoca romana noi abbiamo conservato almeno un decimilesimo, che è tantissimo, dell'epoca medievale molto meno. Quindi questo passato arriva a noi attraverso dei riflessi psicologici diversi, che non sono solo quelli dell'oggetto. E i migliori riflessi psicologici sono talvolta quelli artistici, ai quali vanno aggiunti quelli conservati nel sistema ecclesiale. Perché è un luogo di potentissima conservazione, è il luogo del culto, perché non si buttano le cose. Anche perché le chiese le hanno fatte bene, le hanno fatte meglio delle case. Si butta via il prevosto, ma si tiene quello che stava intorno. Cioè le chiese erano luoghi poi di riferimento stabile, cioè uno vedeva quelle cose lì da bambino, le vedeva quando cresceva, le vedeva poi quando non le vedeva più quando moriva, ma le vedevano i parenti in maniera di fare un funerale. Cioè il rapporto era molto lento con le opere e le chiese sono state uno dei luoghi principali di conservazione. Poi arrivarono i palazzi e le collezioni. Ma quello che, così un po' in modo tronfio, è stato il nuovo nome che hanno tentato di dare al Ministero dei Beni Culturali, il demo antropologico, sembra una roba demoniaca, il demo antropologico, cioè la documentazione della vita, quella è diventata minore. Non abbiamo molti documenti concreti di quella che è la vita quotidiana. Li rielaboriamo, ci sono gli storici, il mio grande amico Cardini fa il medievista, sono dei personaggi formidabili, ma non è che io possa fare una mossa in cui faccio vedere alla gente come si stava allora. Il cinema, da quel punto di vista lì, è estremamente fiacco, perché rappresenta sempre il passato, un po' come se fosse una caricatura. Sono meglio quasi fumetti in alcuni casi. Ma allora possiamo arrivare alla musica. In questo discorso appunto in cui l'arte diventa una memoria storica. No, la questione è interessante della musica, per cui siamo in un fondo, non possiamo evitare... Siamo nel cuore di un violino. Non possiamo evitare di affrontare l'argomento. Che cos'è il violino? Detto a Cremona, uno si può parlare del violino, che faccia di palta ha quello lì. Che cos'è il violino? Il violino è la prima invenzione dell'amplificazione musicale totale. Cioè il passaggio dallo strumento che esisteva all'inizio del Cinquecento e che, attenzione, è spesso rappresentato già addirittura con la modanatura vicino allo strumento moderno, e che rappresentano gli affreschi del Cinquecento, c'è nella pittura di Raffaello, esiste già. Ad un certo punto cambia e diventa, li comprano un appoggio elettronico, cioè da quella cosa che era diventa elettronico. Non cambia molto di forma. Cambia nella sapienza dell'essere costruito. Ma perché così tanta... La domanda che fa l'antropologo è con tutta l'intelligenza sprecata, perché la devi buttare via su una cosa che si chiamerà un giorno violino. Cioè quando voi avete qua in città quel quartetto formidabile, ogni volta che lo vedo mi commuovo, è del 1565, no? Ed è, lo do come esempio, perché è dell'anno successivo alla conclusione del Concilio di Trento. Dobbiamo mettere questi due elementi, le date sono sempre importanti, non sono mai casuali. Quel quartetto viene fatto per la monarchia di Francia, e credo per Enrico III di Francia, e però, perché ha questo successo? Quello che rimane probabilmente è un'ipotesi orchestrale più vasta. Quello strumento è il primo strumento che riesce ad avere un'amplificazione sonora in attesa. Cosa vuol dire? Perché bisogna inventare un'amplificazione sonora in attesa? rispetto ai delicatissimi, elegantissimi strumenti musicali che accompagnano il passaggio dalla polifonia alla musica strumentale fra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, quando nascono i primi cosini a tastiera, i primi clavicordi, quando già esistono i piccoli organi a fiato, perché i primi sono documentati a metà del Quattrocento, quindi con tastiera anessa. Come mai? Perché se voi ascoltate gli strumenti, i primi strumenti sono clavicordi, ed è uno strumento che suona tra una corda sola, ma la suona con dei tasti che la toccano in punti diversi. Erano strumenti per piccole stanze aristocratiche, dove il suono era minimale, come la poesia recitata. Il passaggio da quel suono minimale a quella baracca rumosorosissima, intollerabile, che sembra un gatto strozzato, che è il violino, e che poi diventa sublime, è il passaggio da un consumo del linguaggio artistico riservato a poche persone ad un consumo popolare. Ecco perché stiamo parlando delle banche popolari, non lo sapevano loro che arrivavo lì. Il viaggio è stato lungo, ma è importantissimo. Cioè è la scoperta dell'arte come di un fatto popolare. trasversale. E l'altra cosa importante è che questa è la data del 65, è che questa rivoluzione nel sistema della comunicazione è parallelo al concilio di Trento, alla chiusura del concilio di Trento. Che cos'è il concilio di Trento? È la risposta locale, italica, alla fuga da parte di quei tremendi crucchi che hanno detto una cosa terribile, ogni capofamiglia ha il diritto di saper leggere. In Italia le si dice per carità di Dio tutto fuorché quello, cioè se ognuno comincia a ragionare è la fine. E infatti da allora gli italiani hanno smesso di leggere, ancora oggi leggono poco. Quindi hanno seguito, San Carlo ha avuto un'idea eccellente, ha detto non dovete leggere, guardate la televisione, quello che gli ha detto subito. Da allora gli italiani guardano la televisione. Con risultati non troppo soddisfacenti, ma lasciamo stare anche questo. Sono a pace della televisione. Allora, la prima televisione è la mutazione del concetto letterario di cultura che era caratteristico dell'umanesimo quattrocentesco, cioè noi nel Quattrocento gli davamo una mano di blu a quegli arretrati dei crucchi, perché è vero che anche loro stavano andando verso l'umanesimo, ma alla fine anche i grandi, Erasmo, Pirkeimer, non sono nulla rispetto ai nostri grandi quattrocenteschi. Però quei grandi quattrocenteschi contengono in loro un pericolo assoluto, portano la gente a pensare. Roba che va evitata ad ogni costo. Ecco, ma è questo il fatto che porta anche alla nascita di queste realtà come quella, appunto del violino, perché nel concepirelo ci vuole intelligenza. La risposta che gli viene dato, la risposta che gli viene dato a questo divieto di leggere è la grande risposta contro Lutero. Se Lutero prende il cruco e lo fa leggere e ne lo rende timibile, il tedesco che legge è terribile, perché legge anche il modo di fare la Volkswagen, cioè ne fa di tutti i colori, ha fatto anche dell'altro con il gas prima, meglio che non lega troppo il tedesco, però loro li fanno leggere, da noi invece gli si dice a leggere ci si fa del male e lì si inventa questa formidabile risposta che è straordinaria da un punto di vista artistico che è la polimorfia delle arti. Cioè la chiesa barocca nasce nel Concilio di Trento, poi prende forma 50 anni dopo e nel Concilio di Trento si dice bisogna insegnare con degli altri meccanismi, non a pensare troppo pensa poco ma credi tanto, primo dettame. Ti insegno a guardare attraverso le immagini, attraverso la Bibbia Pauperum che c'era già nel Medioevo, attenzione, ma che diventa enfatizzata al massimo con la grande pittura. Ti insegno a capire attraverso l'architettura, ti insegno a partecipare attraverso le vesti, attraverso l'incenso, attraverso la cerimonia, attraverso i canti, bla bla e così via e ti insegno a partecipare attraverso la musica. Cioè l'Italia diventa un paese musicale in quegli anni lì, perché non è vero che prima lo fosse poi così tanto, perché i primi che ci convertono sono personaggi tipo Rolando di Lasso che viene tipo tutto il gruppo dei Fiaminghi e dei Parigini che sono i primi, lo stesso Doremi Falos, la gamma, la denominazione della gamma è italica di base ma diventa poi rubata subito dai Sorboniani perché è quello il mondo che capisce quanto è importante la musica. Da noi questo passaggio verso la musicalità che ha delle radici oggettive ma che diventa uno dei sistemi espressivi nasce con la contro-riforma. Cioè noi non avremmo mai avuto Giuseppe Verdi senza San Carlo Borromeo. Questa è la verità. io che sono poi un po' laico sono anche il direttore del Museo del Duomo di Milano quindi ho un compito istituzionale però lo sono in quanto laico. Però non avremmo avuto neanche Beethoven se non ci fossero i cremonesi. Esatto. Allora da un lato nasce con i cremonesi nasce Beethoven però prima che nasca Beethoven nasce la musica di piazza. Cioè il violino ha come scopo quello di far balare la gente cioè quello di muovere la gente. ha un suo parente stretto nel mondo germanico che si chiama Pratz. Lo strumento iniziale è uno strumento che si tiene o è un strumento leggero ma si tiene in braccio prima di capire che va messo sotto colo e tenuto. C'è un passaggio ulteriore molto complesso. La Pratz è la risposta alla viola da gamba cioè c'è quella da gamba e da pratz lo dice la parola stessa da braccio. C'è la viola da gamba e la viola da braccio. La viola da braccio muta verso questa cosa pizarra che è lo strumento forte a sonorità forte suscettibile di essere percepito in modo popolare. E in questo senso è direttamente legato alla contro riforma. Mentre il mondo germanico prenderà una strada molto più teorica che farà prima cantare male i salmi e poi lentamente siccome i tedeschi appena possono inventano delle macchine infinite e non sempre col gas sbagliato cioè il problema dei tedeschi del gas è un problema complicato dagli ultimi cent'anni. Gli organi che usava Bach non erano truccati sicuramente. No, gli organi Bach non erano truccati ma loro inventano una macchina diversa cioè loro inventano la super macchina. Se ci sono due strade che dimostrano le diverse culture europee in assoluto sono da un lato l'organo Silberman quello che ha un peso di trasmissione di tastiera di nove etti cioè quasi un chilo bisognava per suonarli essere sostanzialmente degli allenati muscolati perché il passaggio è meccanico ma è meccanico e si trasmette per cinque metri questo passaggio meccanico fino ad aprire una canna da dei ciotopiedi che è lì in fondo questo meccanismo è volto da tedesco noi inventiamo l'opposto cioè in un qualche modo il violino è alla radice psichica del made in Italy cioè noi siamo da allora esperti di meccanica ancora oggi è così i due paesi della meccanica i due paesi di beni strumentali e meccanici vincenti in Europa sono l'Italia e la Germania la Germania nella meccanica pesante non in quella leggera guardate che roba strana cioè il rapporto Silverman e costruitori d'organo qui locali è un rapporto che esiste ancora adesso nell'industria faccio questo racconto perché è quello che permette di capire che parlare di cultura non vuol dire parlare di una cosa astrata lontana dalla realtà ma vuol dire parlare di dati concreti cioè di cose che sono la formazione delle nostre identità che è la formazione della nostra identità e nasce anche dal fatto di sapere apprezzare quello che è bello quello che è bello che è qualcosa che ci unisce l'apprezzamento per l'arte è un apprezzamento che fa parte di un riconoscimento che possiamo dire sociale delle relazioni un comunicarsi un passaparola un dire guarda sono stato a quel concerto mi è piaciuto vaci anche tu ho visitato quel museo sono stato all'expo vaci anche tu poi ci vanno in troppi ma e lì è un po' difficile la faccenda perché da un lato ci sono i proto e post leninisti per i quali l'arte è uno dei linguaggi del potere e loro non hanno studiato molto perché Carlo Marx era un po' confusionale sull'argomento era già più fino a Engels su quella cosa e soprattutto alla fine poi uno dei loro paralleli che era Lodovico Feuerbach quello che aveva teorizzato un po' di maggiore attenzione ma per loro in fondo la questione delle arti non è sostanziale la questione delle arti è più una questione legata alla cultura italica cioè siamo noi che scopriamo che l'arte è uno strumento non di imposizione delle classi di potere ma uno strumento di formazione dell'identità e questo ci viene dal fatto che comunque siano andate le cose la nostra genesi non è cabaleresca ma la nostra genesi è civica cioè mentre il cruco quello lì di Carlo Magno è un omaccione con una spada che mena e un ronzino in mano e va all'avventura noi ereditiamo e questo ne abbiamo parlato a Firenze l'altra sera sempre con con la banca popolare noi inventiamo un'altra strada che è la strada della vita della città del borgo medievale il borgo medievale si fonda su una serie di parametri che vengono direttamente estrati tramite Gregorio Magno già nel settimo secolo vengono estrati dalla trassi monacale che sono i vizi capitali noi formiamo un'identità italica su l'identificazione di ciò che non funziona per fare una società i vizi capitali sapete tutti che cosa sono i peccati capitali sono un'invenzione del monachesimo esaltata nel settimo secolo che ha un'origine addirittura greco-antica perché ne parla già il mondo aristotelico ma entrando nel dettaglio banale per un barbaro di Attila essere golosi non è mica grave perché tanto non mangia per due settimane lì a cavallo che corre come un disperato se finalmente trova una pecora la mangia intiera compresa i piedi è vero o no? per un cavaliere germanico di quelli che seguono Carlo Magno l'ira è uno strumento assolutamente necessario un cavaliere non iroso è inutile allora come mai nasce una cultura alternativa quella lì è la cultura della convivenza monastica benedettina per la quale l'ira cioè la gola la superbia sono tutti elementi che portano il diavolo poi c'è la lussuria sì la lussuria la lussuria forse è la meno grave però sono tutti elementi che portano alla disfunzione dell'organizzazione sociale questi elementi trasferiti in elementi di popolo diventano la radice della vita della convivenza del borgo è per quello che l'Italia inventa la borghesia non è mica vero quello che dicono i tedeschi quello che nasce dal capitalismo e l'etica protestante è un'altra faccenda la vera prima nascita del capitalismo è quella italica noi inventiamo le prime banche sono nate in Italia sono nate proprio dai frati francescani che hanno fatto i banchi i banchi del monte i banchi frumentari per cui si poteva consegnare il frumento per avere i soldi necessari per pagarsi le sementi per l'anno successivo e quindi la realtà non a caso anche la city di Londra a Lombard Street dove c'erano i lombardi che facevano i trafficanti insieme ai fiorentini ma quello per un motivo più divertente perché noi a questo aggiungiamo una grande qualità italiana che è la capacità di inventare balle una roba straordinaria il medio noi abbiamo parlato a Firenze l'altra sera per capire che cosa è Lombard per quale motivo si chiama Lombard e questo ci riporta anche a Cremona il teorico divieto degli interessi di cui parla anche Dante danaro che fa danaro una roba orribile viene dalla chiesa bandito e passa nel mondo ebraico ed è uno dei motivi che porterà oltre a tanti altri già esistenti all'antisemitismo del XIV secolo la bravura degli italiani dire va bene questo non lo puoi fare io ti do del danaro tu fai una cosa e me ne dai di più questo no io faccio l'opposto ti anticipo il danaro che potresti avere ma te ne do un po' meno e ti compro il credito che avrai cioè ti invento il tasso di sconto invece del tasso di interesse nella realtà delle cose non è molto diverso però da un punto di vista del tagliare i capelli in quattro che era tipica della filosofia medievale la differenza è fondamentale perché anticipandoti il danaro io corro il rischio una parte del rischio è mio e ti anticipo l'operazione se per caso non ce la fai i muli muoiono la nave affonda in un qualche modo poi i genovesi che sono i più furbi di tutti inventano anche la seconda parte subito già nel XIII secolo inventano le assicurazioni ti assicuro ma ti pago il tasso di sconto sono dati i future sono dati i future strutturati nascono nascono lì nascono nascono sul trasporto sui trasporti marittimi e sui trasporti di terra e su questo percorso dell'avere inventato il tasso di sconto si sviluppa quella roba strana che sono i banchieri li chiamano lombardi la guida lombard il tasso di sconto si chiama ancora oggi lombard la guida lombard a Ginevra quella di Londra c'è una lombard ma questo percorso dei lombardi avrà tra l'altro un epilogo drammatico perché il carogna dei carogna il più carognone di tutti Filippo Bello il quarto di Francia tra il 1307 e il 1314 siccome la Francia ha avuto questo sogno di grondo ora li viene sempre ai francesi con la malattia lì ma li viene in un modo formidabile da San Luigi in avanti quando decidono di conquistare il Mediterraneo e tentano di fare la loro crociata poi il poveretto San Luigi muore in Tunisia però investono troppo non solo investono troppo spendono in un modo folle pensate che San Luigi per chiudere per tenere aperta la partita con l'Oriente è bello parlare di Danaro siamo sponsorizzati sempre dal sistema bancario ne ricordiamo San Luigi quando finisce quando riesce a rompere definitivamente la questione relativa al regno di Gerusalemme fatto dai genovesi e dai veneziani all'inizio del Dugento e questo regno di Gerusalemme fa implodere Costantinopoli lui finanzia Costantinopoli facendo l'acquisto della reliquia più cara mai comprata nella storia dell'umanità ricopra la sacra corona quella che sta della chiesa adesso dirvi che cosa costa in termini di Luigi d'Oro di allora è tecnicamente impossibile ma una cosa ve la posso dire il costo della Saint-Chapelle allora fu il costo di lavoro pubblico più importante d'Europa non per la dimensione della chiesa ma per il costo delle vetrate all'interno della chiesa fare chiese non era poi costosissimo 600 metri quadri allora di vetrate era una roba come costruire Cape Canaveral per quell'epoca lui fa mettere bene il costo della Saint-Chapelle è un terzo di quello che lui pagò la corona di spine così si capisce cosa è la montare di denaro questa montare di denaro è quello che serve a far stare in piedi poi crollera lo stesso il regno di Costantinopoli il regno latino di Costantinopoli quando la Francia esce da questo 200 troppo ambizioso e arriva il carognone appunto Filippo IV guarda nelle case e dice quello che dicono spesso anche i politici di oggi chi che più niente solo debiti e fa tre cattiverie una dopo l'altra fa fuori i templari perché le dicono che i templari sono pieni di soldi poi scopre che non era mica tanto vero però presumeva che ci fosse nelle top a Parigi il grande tesoro dei templari fa la prima purga antisemita perché dice portovi i soldi degli ebrei me li metto in tasca io e fa la purga antilombardi fa fuori i banchieri lombardi tra il 7 e il 14 del 2003 perché allora i banchieri lombardi erano non è mica vera questa roba dei fiorentini che pensano loro di essere i banchieri per eccellenza lo diventano loro la carriera dei fiorentini inizia con il crollo della carriera dei lombardi allora su questo per fare un altro ragionamento come mai era nata questa carriera dei lombardi stiamo in lombardi è un fatto banale non si fa banca senza plusvalenza cioè era fondamentale l'accumulo di capitale che derivava dalla radicale mutazione agricola che era venuta prima intorno a Milano e poi in tutta l'area lombarda la dobbiamo in gran parte a San Bernardo e ai Cistercensi quando cominciano ad impiantare nella bassa i primi i primi concetti di un'economia nuova e le marcite voi sapete tutti cosa sono le marcite se qualcuno non lo sapesse glielo racconto la marcite è una scoperta molto bizzarra che viene fatta nella parte meridionale di Milano e che arriva qui no ma arriva ancora qua in queste zone che è il recupero delle acque risurgive cioè le acque sono sorgive quelle che escono dalla fonte sono fluviali lì dove esiste la città e sotto la città sono risurgive cioè sono quelle sotterranei che tornano fuori le risurgive hanno una qualità particolare ma hanno sempre più o meno la stessa temperatura fra i 14 e i 18 gradi d'estate 18 d'inverno 14 i 14 gradi invernali sono una risorsa termica straordinaria cosa fanno questi cistercensi scoprono che se fanno il terreno lo coltivano a forma di tetto e fanno colare l'acqua nella parte alta del tetto l'acqua che scende evita di gelare di far gelare il terreno il terreno che non gela consente la prima crescita d'erba a febbraio e il primo taglio d'erba a marzo per questo si chiama marcita marzita che diventa marzita non perché marcia questa marzita ha un effetto formidabile perché offre agli eserciti viscontei una serie di barilli di petrolio in più per andare in guerra cioè le guerre allora si facevano principalmente da primavera dal taglio dei fieni ai primi geli lui becca tre mesi di di carburante in più è questo uno dei motivi della crescita del potere visconteo l'altra conseguenza è un potentissimo accumulo di capitale perché si produce di più soprattutto intorno a monasteri di quando non si possa consumare e l'accordo fra i monasteri e le città libere diventa un accordo abbastanza stabile di accumulo capitalistico questo accumulo capitalistico è quello che serve poi a formare il sistema bancario lombardo cioè il lombardo nasce anche per tornare alle banche popolari per tornare ai territori come questo le banche popolari sono nate nel 1860 1870 in questi territori la prima banca popolare è stata quella di Lodi con Tiziano Zalli poi è stata la banca popolare di Milano e poi sono nate le altre quindi anche il movimento delle banche popolari è nato da queste realtà agricole per finanziare l'agricoltura l'artigianato il piccolo commercio in maniera alternativa rispetto ai grandi capitalisti e ai grandi usugai nascono in parallelo con le società di mutuo soccorso con le società di mutuo soccorso le società di mutuo soccorso e le popolari nascono parallele e nascono anche con la genesi del socialismo lombardo di una visione che non è poi quella del PSI recente è tutta un'altra faccenda che avrà anche delle conseguenze drammatiche perché anche il mascellone di Predapio faceva parte di quel giro lì cioè c'è dentro il bene e il male lì dentro però in questa in questa trasformazione ottocentesca si riprendono una serie di radici che sono radici poi esistenti e che vengono da che cosa? perché nasce il mutualismo da queste parti? una domanda interessante perché da queste parti nasce l'albero degli zoccoli cioè nasce la comunità di convivenza all'interno del meccanismo della produzione agricola il nostro sistema e questo tutto il sistema Lombardo-Veneto non è più così in Toscana in cambio è un sistema nel quale la dimensione dell'unità di produzione cioè quello che è del signor Conte la villa la dimensione è quella sostanzialmente dei comuni di oggi e questa dimensione forma intorno alle ville che sono i luoghi di produzione agricola formula delle comunità queste comunità generano la solidarietà la solidarietà agricola è quella che diventa la solidarietà finanziaria è quella che è la base delle popolari è quella anche che robustisce le città che fa diventare grandi le città che hanno intorno una campagna che dà reddito che ha l'attifondo se vogliamo ma il reddito non è neanche l'attifondo è molto organizzato le dimensioni le dimensioni dei nostri comuni di oggi che vanno se uno fa un'analisi dei comuni del Lombardo-Veneto quelli agricoli stanno dai 400 ettari ai 2500 ettari vanno raramente oltre se andate in centro Italia questi stessi comuni diventano 20.000 ettari perché quelli sono latifondi in quanto non sono molto produttivi torniamo un po' all'arte torniamo a Cremona no però è interessante ci siamo lasciati prendere un po' da questo viaggio anche della storia del denaro che è sicuramente importante soprattutto se è usato bene soprattutto se è usato magari dai mecenati per finanziare gli artisti qualche consiglio perché l'arte diventi veramente qualcosa di godibile di popolare oggi la vedo dura cioè se la sua domanda è come si fa a salvare la Biennale di Venezia non sono in grado di dare una risposta no no io parlavo di arte è che loro pensano che sia l'arte quella roba lì con la modernità come distinguere il grano dalla zizzania diceva qualcuno it is almost impossible come direbbero l'inglese nel senso che il rapporto fra arte e comunità che ha plasmato la cultura occidentale sostanzialmente dall'epoca etrusca in avanti si è sciolto recentemente si è sciolto per colpa e lì non vorrei esaltare come ini ma il grande satana è l'America il grande satana è l'America perché mentre per noi il danaro alla fine è rimane uno strumento nella cultura americana recente il danaro è un fine cioè l'idea che la banconota del dollaro abbia scritto sopra in god we trust noi non avremmo mai in Europa cioè neanche i più riformati dei riformati calvinisti neanche i più bigotti dei baresi avrebbero mai infatti una moneta sulla quale diciamo noi crediamo in dio noi diciamo noi crediamo la pila cioè è una roba più umana cioè possiamo credere ma non ci metteremo mai non lo mettiamo sulla banconota no non lo mettiamo sulla banconota allora l'esaltazione del danaro fine a se stesso che si forma nella cultura pionieristica americana attenzione questa roba qua non è stata inventata da Nelson Rockefeller no no è una roba che nasce nel cuore dell'unità americana nasce nell'anima di Lincoln nasce nella identità americana è fondativa dell'identità americana cambia l'equilibrio delle cose per gli americani l'arte è it's a way to make business è un modo per far soldi e anche un po' di più attenzione è anche un po' di più loro hanno inconsapevolmente percepito il messaggio di Sant'Elena quando Sant'Elena dice al figlio Costantino in oxi mio vinces Sant'Elena ha inventato la pubblicità è la madrina della pubblicità una che inventa dice al figlio con questo segno riuscirai a far fuori due concorrenti e diventi imperatore è una che ha capito tutto della modernità e in realtà in questo suo percorso c'è la radice di tutta la semiottica della pubblicità moderna cioè il segno è quello che impone questo percorso del segno diventa fondamentale per l'America cioè la cultura americana un po' più debole della nostra da un punto di vista figurativo è innegabile è innegabile infatti loro vivono un lungo complesso di inferiorità fino agli anni 80 quando stanno ancora crescendo dell'ottocento nei confronti della madre e patria della cultura cioè lo stivalone nostro disperato continua questo percorso di estremo rispetto ancora nelle grandi collezioni americane dell'inizio del ventesimo secolo e li si affiancano i drittoni del di turno che sono i miei parenti francesi che gli spiegano che devono non solo comprare robe italiane ma devono anche comprare arte impressionista camoabere champagne e in questo modo cambiano l'America l'America entra in questa sudditanza europea e se ne affranca dopo la prima guerra mondiale perché si rende conto che il suo contributo è stato sostanziale per vincere la prima guerra mondiale si ne rende conto ancora di più con la seconda guerra mondiale con la seconda guerra mondiale al senso del potere assoluto e poi gli succede una cosa terribile che questa pax americana che sembra la pace romana antica diventa invegne messa in dubbio pensate in Germania fanno uno sciopero in Italia nasce quella cosa tremenda vi ricordate che è il centro-sinistra una roba in America soffrono McCarty sviene alla parola centro-sinistra e in Francia c'è quel trombone intollerabile del generale De Gaulle che fa Maramao alla Nato e l'America comincia a preoccuparsi il nostro primo centro-sinistra è nel 63 quello definitivo ebbene nel 64 alla Biennale di Venezia gli americani rinterpretano con intelligenza il pensiero di Sant'Elena la Biennale è già organizzata al padiglione americano ha già un artista credo che fosse uno degli Stellas che esponeva non importantissimo la notte due giorni prima organizzato da un mio grande storico amico ormai defunto 94 anni dieci anni fa che era Leo Castelli Leo Castelli era un bizzarrissimo personaggio un straordinario personaggio che laureato a Milano è andato a fare il direttore delle generali a Bucarest si sposa con la signora più ricca di Bucarest Triestino lui e diventa mercante d'arte e riesce a passare fra le griglie del nazismo andare in America nel 41 quindi uno che doveva avere io ho sempre pensato perché conoscevo molto bene Leo che fosse un agente dell'Ovra e che poi si è passato come si faceva dall'Ovra ai servizi americani fatto sta che lui prende il compito di dire nel 64 viva la Coca-Cola viva il dollaro viva l'America e non rompessero troppo le scatole questi europei disordinati che mettono in dubbio la Pax americana fatto sta che la Biennale è già organizzata con il famoso padiglione americano che molti di voi hanno forse visto che sta ai giardini è già occupato da un artista assolutamente privo di interesse la sera prima arriva una fregata della flotta americana ma è documentata veniva una fregata della flotta americana sbarcono i quadri di Bob Rauschenberg lui organizza una mostra esterna di Bob Rauschenberg contemporaneamente alla Fenice organizzano una serata con Sam Cunningham il grande coreografo da balletto americano e Cage credo della musica non sono sicuro di Cage ma probabilmente era lui il fatto sta che c'è la prima prima dell'apertura della Biennale la sua re in inaugurazione entrano tutti sono tutti seduti a Venezia che si guarda alla Fenice entra Bob Rauschenberg e c'è l'applauso generale si sapeva già che aveva vinto Leon d'Oro cioè Leo Castelli era riuscito a far vincere alla pop art il Leon d'Oro prima dell'apertura della mostra l'affermazione dell'arte americana dal 1964 in avanti è stata un'affermazione politica ed è stata un'affermazione che in un qualche modo ha come cancellato le nostre autonomie dal 64 in avanti guardate che di arte in Italia che sia stata vincente a livello mondiale ce n'è stata la storia dell'arte si ferma la seconda guerra mondiale si ferma nel 1964 perché prima ancora Fontana oggi costa milioni Manzoni costa milioni Uncini comincia a costare milioni le avanguardie italiane dopo guerra costano molti soldi sono state accettate dal mercato internazionale dopo l'Italia deve stare zitta hanno capito gli americani allora l'importanza delle arti come vettore di imposizione di una cultura sull'altra questo meccanismo così torniamo indietro nei secoli è quello che nasce quando si formano le grandi culture popolari cioè lo stesso percorso impositivo americano è quello che invece alcune società popolari articolate con delle guidi principesche anche molto significative portano all'interno delle proprie città in accordo con il sistema ecclesiale in accordo con le strutture organizzative e corporative delle città e poi va avanti lentamente e diventa uno strumento di promozione di comunicazione interattivo qui passate dalla facciata straordinaria del Duomo e io sempre ho sostenuto che la chiave la famosa chiave di violino che diventa poi nella scrittura musicale la chiave di violino si chiama perché si fa la chiave di violino e sotto c'è la chiave di basso perché la chiave di violino è l'intaglio del violino stesso da dove viene l'intaglio del violino viene dalla facciata del vostro Duomo se voi guardate la parte alta della facciata del Duomo quattrocentesco ha già la chiave del violino che si farà nel Cinquecento quindi questo spiega è un simbolo di armonia sì questo spiega quando la visuale quotidiana di una vita trasversale della comunità cioè quando parliamo di popolare dobbiamo stare molto attenti popolare non vuol dire pop prima di tutto popolare esiste là dove la struttura sociale non è ancora articolata in un sistema di classi chiuse cioè con l'affermazione della borghesia nei paesi forti delle borghesia occidentali il proletariato non produce arte non esiste un'arte proletaria esiste l'arte del potere sempre l'arte è del potere per definizione finché viviamo nella cultura quattrocentesca fino ad arrivare avanti e torno alla controriforma noi viviamo in Italia una cultura popolare mista quando si comincia a correre il rischio di una rottura di questa cultura popolare mista e questo rischio da dove viene da quel sommo momento italiano che è il rinascimento il rinascimento contiene in sé un germe di carogneria l'umanista la sa più a lungo dell'altro l'alto clero dialoga con Michelangelo il basso clero dialoga con la cameriera con la perpetua si sta formando una linea d'Italia aristocratica che è la linea della cultura rinascimentale e poi arriva la telefonata da arriva la telefonata da Wittenberg il tedesco ha appeso sulla porta una serie di proposte in cui dice il tedesco al mattino ha aperto il suo computer e ha visto che a Roma facevano fundraising per San Pietro e lui che era lì con una tonaca bucata con i piedi freddi con i suoi colleghi che mangiavano la sbrodaglia si ricorda ancora il viaggio che ha fatto nel 1508 a Roma quando ha visto lo sfarzo ha detto basta quella roba lì a noi non ci va più bene e lì si rompe l'Europa e nasce la grande riforma a questa grande riforma che è una riforma sostanzialmente neopopolare dove il crucco torna ad essere crucco nel bene e nel male cioè c'è dentro il bene e il male della germanicità ho il diritto di dirlo perché sono in parte crucco anche io se non dico ma come ti permetti di parlarne male mio nonno faceva lullano col Kaiser a Berlino esattamente cent'anni fa prima guerra mondiale quindi posso anche avere diritto di tirare le orecchie ai tedeschi di fronte a questo rischio di fuga il papato si riorganizza e con Paolo III Farnese inizia il progetto lunghissimo interrotto più di una volta del concilio di Trento cosa viene fuori dal concilio di Trento dal concilio di Trento viene fuori l'italianità moderna cioè ognuno è tollerabile e si accetta anche l'altro smettetela con i Guelfi e Ghibellini in Italia non si era o Guelfo o Ghibellino oppure come dicevamo l'altra sera più che Guelfo si era anti Ghibellino e più che Ghibellino si era anti Guelfo questo è rimasto ancora nella storia italiana fino ad oggi perché ancora oggi è più facile essere anticomunista e comunista è più facile essere antidemocristiano che democristiano cioè oggi siamo anti Berlusconiani più facilmente che uno è anti da noi è tendenzialmente anti però questo fatto che era l'opposizione di tutta la nostra storia Guelfo-Ghibellina fino agli albori del Rinascimento viene sovvertita con l'invenzione del popolo cioè la grande invenzione della contro-riforma è una sorta di non voglio offendere sensibilità però lo dico lo stesso è una sorta di democristiano radicale viene inventato allora cioè il paroco faccia pure il paroco ma non rompa le scatole al vescovo il vescovo faccio pure il vescovo ma rispetti il paroco che il paroco abbia una perpetua sì ma che abbia almeno 40 anni così si succede quello che può succedere fra un paroco e una perpetua non c'è un bambino che viene a dire vorrei ereditare la chiesa no? cioè è una sorta di formidabile accordo di trasversalità che io reputo uno dei patti sociali più geniali della storia d'Occidente perché se pensate che da allora torniamo al violino l'anno prima del vostro quartetto da allora fino all'arrivo di Von Kesselring in Italia sostanzialmente i fucili si sono usati per fatti di caccia o di corna e mentre l'Europa si dilaniava noi siamo stati in grado di convivere che è una cosa di cui l'Italia dovrebbe essere fierissima cioè noi siamo il paese che pensate che una volta hanno fatto la battaglia di Montaperti fra Siena e Firenze adesso si fa con la superstrada in 25 minuti quello che era il luogo del massacro del massacro collettivo allora questa cosa straordinaria cioè che l'Italia è la portatrice più interessante al mondo di tendenza verso la pace forse anche per distrazione non lo sappiamo però a questo punto conta quello che è in grado di portare da questa tendenza verso la pace è uno degli elementi di cui dovremmo andare molto fieri nella nostra storia peninsolare e nasce allora finisco su questa roba per tornare a parlare di arte e nasce allora inventando l'arte pop tutto ciò che è trasversale può essere popolare e interessante e quali sono gli altri che allora in Europa stanno compiando un gesto analogo quelli lì delle fiandre dell'Olanda che si stanno ribellando contro l'impero e contro la Babilonia romana attraverso la loro riforma quella calvinista e attraverso la guerra contro la Spagna da quel momento nascono dei punti comuni cosa mi ha colpito tornate tutti a vedere il vostro museo avete qui alcuni dipinti di origine fiaminga come mai qui certo qualcuno li ha comprati ma qui da tanto tempo perché questo dialogo fra i luoghi in un qualche modo della riforma e della controriforma sono dialoghi naturali e portano tutti e due ad un'esaltazione parallela che sono per i riformati se sei nella grazia di Dio lo vedo nel tuo conto corrente cioè Dio se ti vuol bene ti accarezza il deposito bancario che vuol dire se Dio ti vuol bene hai anche dei prosciutti hai anche delle ostriche puoi avere dei limoni nei dipinti fiammi nei dipinti olandesi i limoni non crescono in Olanda e le olive ci sono i limoni e le olive cioè i commerci ti portano a star bene questo dialogo con il mondo del nord ma del nord in fase rivoluzionaria lo risentiamo qua perché ci sono i contatti e questi contatti sono contatti bancari cioè il famoso gruppo dei Lombards comprende anche i vostri e i vostri entrano in dialogo con quel mondo lì e ecco che il Campi dice anche io allora già che ci sono faccio frutta e verdura no? i quadri di frutta e verdura non sono una pubblicità io li ho usati per fare la pubblicità campagna pubbliciare dell'essere lunga e di Caprotti era contento ma non sono solo pubblicità per l'essere lunga sono pubblicità per una scelta politica cioè questo nostro percorso integrativo è un percorso nel quale c'è da mangiare per tutti guardate che parlare allora del c'è da mangiare per tutti noi a noi ci sembra facile perché io tendiamo tutti all'obesità anche noi due un po' c'è chi più chi più meno ma rispetto alla nostra alla nostra sovralimentazione l'esaltazione del cibo nel XVI e XVII secolo è una visione etica del vivere e questa visione etica ha una sua sorgente qua allora torniamo indietro al punto di prima alla grande mutazione che avviene dopo la grande peste ne avevo accennato prima quando si passa dall'essere società produttive quella di accennavo quella del comune e si scopre che la campagna sta salvando l'Italia dopo la peste il crollo demografico della metà del Trecento verrà lentamente ma inesorabilmente recuperato attraverso una grande attenzione al mondo degli alimenti e dell'agricoltura ed è a partire da quel momento che le aree agricole del nord Italia diventano protagoniste prima chi se la filava Ferrara chi se la filava il Mantovano chi se la filava il Cremonese e dopo il 1350 che queste parti d'Italia diventano fondamentali la questione del Monferrato che diventerà poi la questione cruciale della politica del Seicento e del crollo anche di Mantov cioè tutta questa fascia centrale che è evaporata nella nostra coscienza pensate che non avete l'autostrada una roba recente le ferrovie non vi hanno dimenticato inizialmente cioè sia voi che Mantov perché questa fascia di potenza agricola verrà poi in un qualche modo eliminata dall'evoluzione successiva industriale del paese ma è la radice della nostra ricerca più che eliminata c'è stato anche un equilibrio tra le fasce agricole e le fasce industriali una capacità di realizzare industria anche in fasce agricole approfittando appunto del fatto che l'agricoltura aveva meno bisogno di personale questo personale è defluito verso l'industria e l'industria soprattutto in queste aree ha saputo diventare un fattore di ricchezza però devo dire la verità che la prima la prima mutazione avviene con l'abbandono dell'azienda agricola del Shurkunt cioè si abbandona e l'albero degli zoccoli nell'esempio perfetto sono uno quando se ne va non torna più indietro tra l'altro c'è un'analisi gramsciana pensate cito dei personaggi che non si citano più da secoli c'è un'analisi gramsciana estremamente attenta sulla formazione del proletariato piemontese e dalla quale allora ci fu un grande dibattito all'interno della sinistra quella vietata prima della seconda guerra mondiale sulle differenze organizzative tra Lombardia e Piemonte per esempio come mai si forma in Lombardia un proletariato specializzato e una classe operaia che verrà chiamata l'aristocrazia operaia cosa che non avviene nel Piemonte perché mentre da noi chi abbandona la terra non ha più via di ritorno perché non la possedeva era in un qualche modo una riminiscenza di un servo della gleba medievale che lavorava nella terra qua chi l'abbandona non ha più la possibilità di tornare in Piemonte e in Toscana intorno a Firenze intorno a Livorno il contadino è comunque proprietario di un mini a pezzamento l'operaio il famoso il prototipo operaio Fiat 1920 è uno che rimane con un piccolo pezzettino di terra fuori c'è una vacca o due filari di vigna e per lui fare l'operaio in fabbrica vuol dire avere un posto di lavoro ma non è stimolato a diventare un iper specialista per chi fa questo stesso mestiere in area lombarda chi abbandona la campagna diventa all'interno della fabbrica uno specialista avanzato e lì si formano due vocazioni diverse dell'industria che poi adesso sono confuse tutte perché siamo andati in crisi ovunque fanno la Fremont quindi forget e quindi vabbè questo è un altro discorso però è il motivo per il quale è il motivo per il quale in area non qua all'estero rispetto a qua parliamo dell'Emilia che è all'estero questi abbandonanti la terra fanno la Ferrari e fanno la Lamborghini cioè che uno si dice ma come fanno come fanno dei contadini si mettono a fare le macchine più famose del mondo proprio perché la specializzazione del lavoro avviene laddove chi ha abbandonato la terra deve inventare un mestiere totale e non ha più la possibilità di tornare indietro ecco abbandonare la terra è stata una una grande transizione un grande cambiamento per una realtà come quella italiana però le città sono rimaste dei segni molto forti di presenza di una borghesia produttiva di una borghesia commerciale di un centro medio che è capace appunto di realizzare poi quella congiunzione tra il popolare vero e un popolare più esteso un popolare che sia veramente una capacità di inclusione sociale si dice adesso una parola forse un po' brutta possiamo dire che avviandoci verso la conclusione che anche l'arte può portare a questa inclusione sociale a far partecipare maggiormente le persone a una realtà in trasformazione in difficile trasformazione ma che in questa fase ha comunque il bisogno di riprendere dei valori della bellezza del godimento della capacità di confrontarsi con gli altri e con quello che gli altri fanno allora dobbiamo intanto quando parliamo di arte smettere di pensare ai quadri uno parla di arte uno pensa subito al nostro amico del museo che dice sì certo i quadri quella roba col chiodo le arti sono tante e non sono solo la pittura esistono delle arti del potere c'è l'arte del potere ancora maggiore della pittura che l'architettura però che è più condivisa della pittura mentre i dipinti sono dove sono i dipinti sono nella casa del potere oppure attenzione questa è l'altra cosa si dimentica troppo questo argomento sono nella chiesa nel mondo del libro quello di Lutero dove tutti diventano alfabetizzati non ci sono quadri in chiesa perché è vietato nel mondo di Calvino buttano direttamente ora via le statue io ho parlato a mio figlio un po' di anni fa nella mia città d'origine nella città calvinista Milus ed è curioso perché l'ho portato al tempio non era mai stato in un tempio protestante il tempio protestante il Milus non è un tempio costruito per essere un tempio protestante è una chiesa gotica della metà del quattrocento riconvertita fa abbastanza impressione perché da fuori ho quella chiesa gotica come quella che conosciamo uno entra dentro e bianca ci sono alcuni se andate a giocare su internet i pittori dell'interno delle chiese gotiche olandesi della riforma sono uguali una delle chiese vuote sembra in un garage e anche la cosa più incredibile è che sopra l'altare è rimasto il famoso grande politico che conteneva i suoi dodici quadroni con tutto il decoro lineo hanno tenuto solo il decoro lineo hanno tolto i quadri cioè c'è questa roba qua che è una specie come una dentiera un'elegantissima dentiera quattrocentesca in oro vuota allora sono culture diverse per loro questa cultura dell'immagine non è quella che abbiamo avuto noi noi abbiamo avuto un'arte popolare per questo bisogna stare attenti cioè se voi andate a vedere anche il vostro museo cittadino la quantità di dipinti religiosi corrisponde all'arte quella è la connessione costante fra arte del popolo e arte delle classi di potere delle elite quindi in Italia non si forma mai una vera arte popolare pop perché la relazione fra la parte evoluta e quella della quotidianità rimane viva che è la grande lezione della contro riforma cioè fra il vescovo e il contadino il rapporto è evolutivo normale non è che uno appartiene a un mondo e l'altro all'altro questo lo è avviene nel mondo del nord allora da noi è difficile distinguere l'arte popolare dall'arte alta se non attraverso il fatto che noi vestiraccio che faccio io dello storico dell'arte è che si scopre che un quadro di alto livello del 1620 diventa un quadro popolare meno bello nel 1680 cioè ci mette 50-60 anni a passare dall'area di produzione centrale alla diffusione però svolge la sua funzione mentre non è così nel resto del mondo del nord cioè il ritratto del principe tedesco sta a casa del principe tedesco quello che va a bere la birra non l'ha mai visto in vita sua quel ritratto lì e lì dove beve la birra ha dei nanetti che si rincorrono cioè sono proprio due culture diverse questa distinzione fra la cultura del nanetto e il ritratto del principe è una cosa che va avanti fino nel mondo americano per cui esiste un'arte povero e proprio noi siamo un mondo mescolato perennemente cioè siamo sempre una macedonia e quindi abbiamo delle grandi opportunità in fondo e abbiamo questa bizzara caratteristica dovremmo esserne coscienti dovremmo esserne più fieri e lo abbiamo qua in questa città in modo particolare dove avete questi tre elementi fondamentali il rapporto fra musica che diventa musica pop perché il primo violino è uno strumento pop poi viene trasformato in una scicheria nei due secoli successivi avete un rapporto costante fra l'architettura e il vedere fra la pittura all'interno dell'architettura e il sapere e poi avete la cucina ma di questa parleremo un'altra volta se parliamo di cucina possiamo andare avanti a lungo concludiamo magari con un accenno alla cucina perché anche la cucina ha bisogno di bellezza ha bisogno di intelligenza ha bisogno di sapori più di sapori che di sapori ha la sedimentazione ha la sedimentazione cioè quello che definisce caratterizza il nostro modo di concepire è il fatto che alcuni sapori ci seguono nei secoli adesso siamo a Cremona non possiamo non parlare cosa? della mostarda? della mostarda no? cioè provate a spiegare a un tedesco la mostarda di Cremona non ce la fate? provate a spiegare a un tedesco che si mangia una cosa che è forte come la senape gialla che lui mette sulla salsiccia ma che è dolce e che invece deve essere una sorta di crema che sembra uscita dal tubo del dentifricio è una roba con dei frutti guardate io l'ho fatto questo esperimento perché a voi mi sembra normale ma se un giorno mi capita un non italiano ma già se mi capita da un siciliano fa fatica lui capisce che c'è un rapporto fra la mostarda e la cassata e questo rapporto è reale attenzione è reale ma se andate oltre non si capisce più cioè provate andate da un inglese un inglese lo capisce perché c'ha il chutney e ha imparato a fare queste mescolanze con l'India ma andate a Hamburgo con un barattolo di mostarda cioè gli dovete fare una conferenza di due giorni prima che capiscano di cosa si tratta questo perché perché è una delle caratteristiche formidabili della cultura popolare e che non si dimentica velocemente come la cultura alta cioè la cultura alta è fatta di mode la cultura popolare è fatta di modi sono due robe diverse il passaggio delle papille gustative attraverso una generazione all'altra è un passaggio giustamente non normale cioè adesso non voglio parlare di città lontani quasi vicine all'India Mantua per esempio lo so che è molto lontana da Cremona però alcuni ci vanno da una sempre l'ombarda sempre lì il tortello dolce di zucca mantovano anche quello provate a spiegarlo in tedesco cioè per un tedesco la roba che si mangia prima del dessert è salata chiaro cioè le cose devono essere semplici se no non nasce la filosofia cioè altrimenti Hegel si butta giù nel fiume cioè le cose devono essere comprensibili cioè le categorie devono essere chiare questa nostra confusione delle categorie per cui la mostarda può essere dolce e il tortello di zucca anche che sono eredità tra l'altro della cucina medievale cioè i tortelli medievali erano estremamente zuccherati e si mettevano vari elementi che andavano dallo zucchero vero e proprio che veniva dall'Oriente allora che era molto caro fino a lì al miele cioè era costantemente utilizzato cioè il gusto l'agrodolce medievale è stabile noi il resto dell'Europa lo abbiamo abbandonato guardate l'unica parte d'Europa dove c'è l'agrodolce questa parte qua è una roba strana cioè io ho mangiato un po' da tutti i ristoranti d'Europa infatti si vede anche ma adesso ho perso anche un po' di chili ma questa permanenza dell'agrodolce esiste solo da noi e curiosamente dai peggiori gastronomi d'Europa l'inglese l'inglese e comunque è un esempio anche questo di creatività di capacità di cambiare le cose di ricerca di curiosità di ricerca appunto di qualcosa di nuovo e di bello di dolce di buono c'è un altro elemento che è popolare con questo poi chiudiamo la cucina nel mondo aristocratico del nord che è un mondo nobiliare cioè i barbari sono nobiliari noi no io posso dire essendo un po' barbaro un po' no i barbari sono nobiliari perché chi detiene il potere ha dei diritti diversi dagli altri infatti muore per eccesso di carne mangiata sto preparando un lavoro spero molto divertente molto difficile a fare sulla percezione del medioevo io sto facendo una ricerca di tipo anagrafico i re e i nobili schiatavano fra i 30 e i 40 anni i priori e gli abati fra i 70 e gli 80 allora non perché uno adesso non ci sono bambini quindi si può usare la parola tecnica non perché gli uni trombassero e gli altri no perché da quel punto di vista lì erano parificati ma per un altro motivo perché mentre i guerrieri andavano di carne e basta con due o tre fogliette ogni tanto l'equilibrio alimentare del mondo monastico portava ad una vita completamente diversa questo l'ho spiegato anche a lungo il mio amico Umberto Veronesi quale pensa che un giorno diventeremo molto vecchi no? c'è una cosa stranissima sia Cicerone che Livio riprendono uno per un pezzo uno per l'altro le citazioni delle tradizioni etrusco-romane sull'età pensate che per il mondo romano perché uno non dice siamo più vecchi noi di allora no? nella tradizione sacerdotale che passa dal mondo etrusco-romano la vita è suddivisa in cicli di sette anni si è bambini per il primo ciclo fino a sette anni si è adolescenti fino al terzo ciclo fino a ventun anni si è maturi fino al decimo fino a settant'anni si è anziani fino al dodicesimo fino a ottantaquattro e dopo ottantaquattro non bisogna rompere le scatole di dei se uno diventa pacso però si può andare oltre cioè quindi la previsione di vita in epoca etrusco-romana era esattamente come quella di oggi questa previsione di vita crolla nel medioevo perché ma crolla non per tutti crolla per i poveri diavoli e crolla per la nobilità per il potere non crolla per il mondo monastico perché il mondo monastico è autodisciplinato questo andrebbe raccontato a quelli che se la prendono adesso contro le bistecche degli americani no? che la questione non è se mangiare bistecche o meno è quante le mangi è ovvio che si sa nel Texas e mangi due once di carne cruda rossa ogni giorno dopo poschiati ma questo comunque ma morivano così nel medioevo se invece ti mangiano intanto un filettino non è mica tanto grave anche se è bello al sangue poi se lo fai anche col cognac meglio ancora quindi stiamo attenti però questo ci permette un po' di capire l'evoluzione storica e in questa evoluzione storica il mondo monastico gioca con un ruolo fondamentale e quindi anche la la giattezza ne è conseguente e quindi in molte cose dobbiamo anche ringraziare appunto i monaci per il loro stile di vita per aver importato anche la capacità di lavorare per aver coltivato le terre per aver risanato la pianura però abbiamo imparato anche noi che forse per vivere a lungo non bisogna essere non è necessario essere monaci basta prendere la vita con un po' di divertimento e con la capacità di guardarla con un po' di distacco come abbiamo cercato di fare questa sera grazie 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 Grazie.